pronto ciao alunio benvenuti in questa nuova lezione di corsia no 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 io chiamo i carabinieri chi è lei facilissimo mi raccomando concentratevi perché poi metterò il vuoto ha sbagliato ha sbagliato siamo subito sandro è un numero privato chi è ma chi è ciao amia come stai tuttavia mi richiano ma ti vuoi qualificare chi sei allora io vi dirò una parola in italiano e subito dopo in corsivo voi dovrete semplicemente ripeter la parola in corsivo allora della dichi della dichi napoletana vaffanculo potresti migliorare aria vaffanculo pronto buongiorno alunio parla perché non rispondi ai miei messaggi ma chi è luciano mi evite anche per strada ma chi è che parla dai me la dai un'altra possibilità ma non ho visto i tuoi messaggi io tutte queste cavolate le ho fatte perché avevo paura di perderti non capisco luciano io non ho nessun messaggio tuo sul studio quindi è finito come finita io vedo cosa che tu ti metti sullo stato no vedo che tu scrivi di balanascar e tanzania eccetera quello la vedo ma dove sei luciano ok amio ma vieni amio ma guarda che ti sbagli ti sbagli hai fatto un altro numero io tutte queste cavolate le ho fatte perché avevo paura di perderti no non ho capito dai luciano dai 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 metti sullo stato scrivimi un messaggio non così duro privato ciao ok amio ma vieni amio ciao ciao no amio ma che amio dai ciao pronto? ciao alunio la vogliono lei signor alunio adesso glielo passo subito pronto? ciao alunio si? benvenuti nella vostra prima lezione di corsia ma chi sai scusa? vi spiego un pochino come funziona alunio ma dimmi chi sai? allora io vi dirò una parola in italiano e subito dopo in corsivo voi dovrete semplicemente ripetere la parola in corsia eh la prima parola è semplicissima amio si dice amio ah no? potresti migliorare aria tuta grigio in corsivo si dice tuta grigio tuta grigio sei ascolto ma dimmi chi sai? aspettato qui c'è il cane c'è il gatto dimmi chi sai? la seconda parola di questa lezione è verifica si dice verifica verifica? io non capisco niente tuta grigio ora tocca a te tuta grigio amio si dice amio ascolta ma dimmi chi sai? no qua per niente meriteresti un due sarà per la prossima lezione va bene va bene ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti